Cari amici di Fano TV, la più cordiale buonasera, un altro approfondimento in studio dedicato alle elezioni 2024, questa volta per conoscere il candidato sindaco alle primarie del centro-sinistra con noi, Civiche Fano, Etienne Lucarelli. Buonasera. Buonasera a tutti. Iniziamo a parlare di lei come persona, quindi dal punto di vista privato e professionale per arrivare ai motivi che l'hanno spinta a candidarsi. Innanzitutto Etienne Lucarelli, molti magari percepiscono questo strano nome, ma in realtà sono nato a Fano, Fanese Doc, la zia che ha sposato un belga ha deciso di darmi questo nome così particolare e ormai conosciuto, è riconoscibile direi perché non ce ne sono a Fano così tanti. Tutti mi conoscono per l'attività sociale svolta nella città negli ultimi vent'anni e veramente sono innamorato anche di questo modo di fare città, delle persone attive che giornalmente si dedicano per la comunità, che è anche un po' un valore etico che dovremmo anche un po' tutti ritrovare, quella di spendersi, di fare un passo avanti verso la comunità a favore della città. Non tanti invece mi conoscono per la mia attività professionale, agente di commercio con la responsabilità commerciale dell'Adriatica, con degli studi specifici proprio per il settore, studio di quinto livello in comunicazione, con un nome strano che si chiama PNL, programmazione neurolinguistica, che ti insegna proprio a stare tra la gente, avere empatia, ti insegna a creare questo ambiente di comunità che è un valore aggiunto per tutti. Ecco, in questi anni abbiamo portato avanti un progetto importante per la città, che è un progetto civico ed è questo che vorremmo continuare a fare perché riteniamo che sia un valore importante. Presentiamo allora anche la lista. Un progetto che nasce dieci anni fa con il sindaco Massimo Seri, io sono stato coinvolto negli ultimi cinque anni con una lista civica, Insieme Meglio, prima l'espressione del civismo cittadino aveva due altre liste, noi città e noi giovani, questa di fatto è l'evoluzione del civismo fanese, lo vediamo qua, la lista si chiama Noi civi che fanno, la parola civi che rappresenta proprio il civismo della città di Fano, che ormai devo dire è diventato un progetto politico, queste freccette rappresentano le tante persone con le diverse sensibilità che compongono questo gruppo, ma anche le varie tematiche che vogliamo portare all'attenzione della città per portare la città verso il futuro. Sono due le parole che utilizziamo, che a noi piace utilizzare, ascoltare e fare. In questi anni noi siamo stati sempre veramente molto vicini ai cittadini, ascoltandoli, abbiamo scelto di partecipare a vari progetti direttamente con la città e poi di mettere in pratica direttamente le cose che i cittadini ci chiedevano di fare, con un modo di fare concreto e pragmatico. Ecco, è anche questo che vogliamo continuare a fare nel futuro, credo che questa sia la vera anima del civismo e ciò che dobbiamo continuare a fare. L'idea è avvicinare la macchina amministrativa alle persone e credo che per il futuro sia molto importante. Il prossimo 7 aprile siamo chiamati alle urne, come si vota? Allora, innanzitutto devo dire che le primarie sono tra quattro candidati, persone, compagni di viaggio, devo dire, e non avversari, perché siamo insieme in questa partita per rappresentare un'anima del centro-sinistra che ha veramente tante sfumature. Quindi io per il civismo, i miei colleghi per altri partiti e il 7 aprile sarà importante che tutti i cittadini vanno a votare, perché pensiamo che il candidato sindaco del centro-sinistra debba essere proprio un'espressione delle persone. Ecco, tutti possono andare a votare, perché qualcuno mi ha detto che possono andare a votare solo le persone che hanno la tessera di partito. No, questo non è vero, tutte le persone possono andare a votare, si va con la tessera elettorale, sono 10 i seggi, si può andare anche direttamente nel mio sito internet www.etianlucarelli.it, c'è una sezione proprio dedicata a come si vota, in base alla vostra tessera elettorale, insomma, sapete dove poter andare a votare, andate direttamente, 2 euro si spendono per votare, insomma, ognuno può dare la propria preferenza, con i candidati che sono Corafattori, nell'ordine tra l'altro, Corafattori, Etian Lucarelli, Cristian Fanesi e Samuele Mascarin. E io dico, insomma, votare me significa anche portare nella città quella dose di freschezza che arriva dal civismo, di attenzione verso la città, ma anche quell'esperienza che nasce in un uomo di 50 anni, che ha vissuto un'attività professionale che lo ha portato in giro per il mondo, quindi a conoscere il mondo, ma anche la capacità di socialità che l'ha portata a conoscere la città e le persone. Quando parla del futuro della città, lei usa due parole chiave, benessere e qualità della vita. Ci spiega meglio questo concetto? Perché secondo me sono le due parole, le due tematiche, i due macrotemi, del quale un amministratore, un sindaco deve tener conto per portare la città verso il futuro, per far crescere la città che per crescere ha la necessità di crescere insieme. Quindi diciamo che sarà il principale obiettivo della prossima amministrazione da me governata. Quindi qualità della vita e benessere, ovvero il benessere c'è quando siamo in grado tutti insieme di accompagnare gli ultimi, le persone più fragili. E il benessere c'è quando insieme riusciamo a portare la città, a farla conoscere all'Italia, al mondo, con quelle che sono le sue principali peculiarità. E io uso sempre, quando devo spiegare qualità e benessere, uso sempre due macrotematiche per capire come, per spiegare come poter raggiungere questo risultato. E uno è la visione che un amministratore deve avere del futuro della città. È chiaro che se si vuol portare Fano lontano, si deve pensare a una città internazionale. E nel futuro sarà sempre più così. Ci vogliono più rapporti con l'Europa, ci vogliono più rapporti con le città del mondo, ci vogliono amici in Italia e nel mondo per, così, innanzitutto per attirare quei trasferimenti che sempre più arriveranno dall'Europa e per fare le opere che servono alla città. E per poi paragonarsi anche con le altre città d'Italia e del mondo che ovviamente guardano al futuro e quindi anche Fano avrà un termine di paragone, il modo di crescere insieme. Devo dire sempre più i progetti saranno progetti nazionali ed internazionali che coinvolgeranno diverse città. Ecco, quindi solo con un rapporto con il mondo Fano riuscirà ad attrarre quegli investimenti. In quest'anno abbiamo creato un ufficio molto importante che è l'Ufficio Europa, che ha portato a Fano tante economie e se oggi vediamo tanti cantieri che portano le città verso il futuro è proprio grazie a questo ufficio. Ecco, nei prossimi anni quell'ufficio va rafforzato perché non solo si possono attirare economie per la crescita delle infrastrutture e la bellezza della città ma si possono attirare l'economia anche per far crescere la nostra cultura, le nostre attività, far crescere la nostra comunità creativa. Ecco, quindi una città internazionale è una città che sa guardare al futuro. Ecco, bisogna essere internazionali ma non bisogna mai dimenticare chi siamo perché la nostra cultura, le nostre tradizioni, tutti i progetti ai quali stiamo lavorando perché devo dire in questi anni se pensiamo che abbiamo finanziato un museo dedicato a Vitruvio che arriverà nei prossimi anni, abbiamo finanziato un ecomuseo del mare che parlerà della nostra tradizione, arriverà nei prossimi anni, abbiamo finanziato la fabbrica del Carnevale. Ecco, sono tutti i finanziamenti ai quali dare continuità nel futuro che riusciranno a raccontare la nostra città. Ecco, questa è un'altra cosa. Si parla della necessità di dare continuità o discontinuità all'azione di governo. Serve sempre dare continuità all'azione di governo. Chiaro che si cambia il sindaco, quindi ci sarà un nuovo modo di lavoro, un nuovo impatto sulla città sicuramente, ma serve dare continuità a tutti i progetti che abbiamo portato fino ad oggi, che guardano all'infrastruttura, alla bellezza, alla cultura, alle attività sociali, i progetti fatti sul turismo, i progetti fatti insieme al tavolo economico, hanno bisogno di continuità. Poi è chiaro che nel futuro arriveranno grandi sfide. Se pensiamo all'aumento delle diseguaglianze, se pensiamo alla crisi economica che è strutturata, non è Fano che ha una crisi del commercio o d'altro, è che c'è una crisi economica strutturata che va gestita. Quindi dobbiamo essere in grado di portare a casa e di dare continuità a questi progetti, a questa visione, ma dobbiamo sapere che abbiamo altre sfide che dobbiamo essere in grado di superare, si superano soltanto insieme e si superano soltanto se Fano dialogherà con il resto del mondo. Nel suo programma lei parla di una Fano che progetta dando assoluta importanza ai quartieri. Sì, perché quando ho parlato di qualità e benessere ho dato la prima visione, nella prima tematica da utilizzare per riuscire a portare a casa il benessere dei cittadini, la seconda è l'attenzione alle piccole cose, alla crescita comune. Quando parlo di attenzione alle piccole cose, molti oggi ci lamentano il fatto che non abbiamo avuto attenzione alle manutenzioni. Ecco, questa cosa la voglio spiegare, perché in questi anni, col PNRR, le amministrazioni locali hanno dovuto lavorare veramente tanto, ma tutte le comunità, perché per portare a casa le economie che vedete nei grandi lavori ci sono venuti architetti, ingegneri, geometri, tutti stanno lavorando dietro questi progetti. Nella macchina amministrativa abbiamo dovuto assumere il doppio delle persone che c'erano prima. E se non avessimo fatto questo non saremmo stato in grado di portare a casa le economie dall'Europa, non saremmo stati in grado di crescere e di portare a casa quelle infrastrutture e quei progetti necessari per guardare verso il futuro. E guardate che quelle economie lì dobbiamo pagarle i prossimi anni, quindi era necessario farlo. Ecco, non abbiamo potuto utilizzare quelle persone per le piccole manutenzioni, da domani servirà un piano manutenzione serio, occorrerà arrivare ovunque, molti si lamentano, bisogna tagliare più l'erba, bisogna guardare più i marciapiedi, bisogna sistemare più la città. È vero, abbiamo bisogno anche delle piccole manutenzioni. Ecco, e io credo che guardare i quartieri, e ritorno alla domanda che mi è fatto, sia fondamentale. Il centro storico è il cuore di una comunità, ma i quartieri ne sono l'anima. Questa è l'idea che io ho della città. E se noi non riusciamo a capire, innanzitutto bisogna rifare un progetto serio riguardante ai quartieri, perché la città prima era divisa in sei circoscrizioni, oggi nel 2016 l'Università d'Urbino ha risuddiviso la città addirittura in 21 quartieri, oggi magari sono ancora di più, perché i singoli quartieri hanno diverse anime, hanno diverse necessità. Quindi è chiaro che va risuddivisa la città, è chiaro che dobbiamo portare a casa il tema dei consigli di quartiere. Perché? Perché l'amministrazione ha bisogno di un nucleo formale, istituzionalizzato, quindi un consiglio di quartiere all'interno di ogni singola comunità, per poter attivare una serie di servizi. Abbiamo parlato delle community hub, che sono dei centri sociali, che tra l'altro sono previsti nell'ultimo piano regolatore. Ecco, ci sono già dei centri sociali, che sono anche club anziani all'interno delle comunità, ma hanno bisogno di guardare alla comunità a 360 gradi, ad esempio di coinvolgere anche i giovani che cercano aule studio. Abbiamo bisogno di attivare una serie di servizi, ad esempio, che guardano alle attività sociali. Sempre più persone vivono fragilità all'interno di casa e magari con i consigli di quartiere possiamo attivare dei servizi utili per queste persone. La salute mentale sta aumentando esponenzialmente. Questi giorni diverse città, ho visto, lo stanno attivando, si sta attivando uno psicologo di quartiere presente proprio all'interno delle comunità per dare manforte a tutte quelle persone che hanno questo tipo di fragilità. Ecco, quindi credo che guardare i quartieri con attenzione per il tipo di infrastruttura, creare una comunità forte all'interno del quartiere che dialoga, che ha la propensione attiva verso la città, questo ovviamente grazie a dei consigli di quartiere e delle persone attive all'interno, aiuta a creare le comunità nei quartieri, aiuta a capire quali servizi e quali necessità hanno i quartieri e fare in modo che l'amministrazione possa dialogare in modo più attento, perché serve anche maggiore attenzione nel dialogo con la città, con tutta la città. Quando parla di sviluppo economico lei intende rendere Fano più competitiva, in che maniera? Serve alla città fare dei passi avanti nelle infrastrutture, ad esempio il centro storico serve un piano parcheggi, ad esempio serve capire come le attività commerciali possono cambiare la loro mentalità stessa di commercio, perché il commercio stesso che sta cambiando, serve aiutarli in questo, serve andare nel digitale, serve una cultura delle persone che arrivino nella città in bici, ancora il 65% della popolazione fanese vuole arrivare a Fano in macchina, mancanza di infrastrutture ma anche mancanza di cultura e quindi questo dobbiamo aiutare a portarla verso il futuro, ma poi dobbiamo guardare ad esempio anche all'artigianato, negozi storici e negozi che raccontano le identità fanesi, vanno identificati, l'artigianalità di qualità va qualificata, magari facendo un regolamento che valuti l'Edeco o il Medinfano per rivalutare questo saper fare manuale che la città di Fano ha, la zona industriale deve essere un fiore all'occhiello della città, quindi è chiaro che ad esempio secondo me gli serve un master plan vero per capire quali sono i settori merceologici da aiutare con una serie di servizi, ad esempio abbiamo un settore dell'ingegneria molto forte, ovvio che se non ci sono delle infrastrutture, delle reti che possono trasferire dati in modo veloce è chiaro che tutti gli studi di ingegneria che stanno nascendo fanno difficoltà a lavorare, quindi servono infrastrutture per i settori che crediamo di dover far crescere, mi viene in mente il navale, ha delle grandi difficoltà oggi, ecco quindi serve che puntiamo gli investimenti verso questi macro settori, ecco quindi c'è un grande lavoro da fare per la crescita economica e se l'economia cresce significa che cresce il lavoro, significa che tutte le persone hanno dignità lavorativa e significa che possiamo accompagnare anche gli ultimi, quindi lo sviluppo economico che poi è sviluppo della città va visto proprio in tal senso. Parlando di riqualificazione lei pone l'accento sulla bellezza e sulla manutenzione, quali sono i suoi progetti per la città di Fano? Ma questo l'ho detto un po' prima, noi abbiamo puntato a riqualificare tutte le aree più belle del cuore della città e quindi come ho detto servirà un piano manutenzioni che ci permetta di arrivare ovunque e ad esempio visto che sono le principali criticità che vedo di rendere la zona mare bella già dal periodo pasquale con i sottopassi a posto, con l'erba pulita, con le strade a posto, con la segnaletica in ordine, quindi sono dei passi che dobbiamo fare e servirà a strutturare un ufficio che possa fare questo. Sempre dal suo programma si apprende che Fano sarà una città più inclusiva e che lascia spazio alle nuove generazioni. Sì, il tema dell'inclusività, il tema del fare comunità è un tema centrale per tutti, fare in modo che il sindaco abbia un'attenzione sulla sanità pubblica e che quindi faccia le giuste pressioni a livello regionale perché Fano sia trattata come la città che merita, non voglio dire come terza città delle marche, perché per la nostra bellezza meritiamo anche di più da questo punto di vista, però devo dire che oggi ci sono tante necessità anche fuori dal tema ospedaliero, ci sono nuove fragilità che stanno crescendo e lì dobbiamo avere un occhio particolare, dobbiamo lavorarci sia come amministrazione dedicando i fondi, attivando servizi per aiutare queste persone, ma dobbiamo essere anche una comunità attiva che dedica le economie che sono nella città per accompagnare gli ultimi, perché solo insieme possiamo veramente crescere. Fano la città dei bambini e delle bambine, ma anche un progetto giovani? Fano ha bisogno di includere i giovani in un processo di crescita e di governo della città e fino adesso, sì, in questo mandato col sindaco Seri diversi giovani sono stati inseriti, poi i giovani hanno bisogno di attività all'interno dei quartieri, ad esempio di aule studio, oggi i giovani studiano tutto il giorno e poi alla sera hanno bisogno di divertirsi, ecco infatti ci arriva la richiesta di avere aule studio direttamente nei quartieri e magari queste con i consigli di quartiere, con l'interazione demografica e sociale tra anziani e giovani si possono realizzare all'interno delle community hub e quindi abbiamo bisogno di realizzare un piano giovani e per fare questo non possiamo farlo noi, devono fare direttamente loro, ormai la città deve parlare anche con il loro linguaggio e per questo è che abbiamo bisogno di racchiuderli in un'azione di governo e includerli in un percorso di crescita della città di Fano. Siamo arrivati al termine di questo nostro spazio, un minuto per fare l'appello al voto. Per tutte le persone che mi conoscono, per l'idea di una città che deve guardare al benessere, per una consapevolezza di un dialogo che ci deve essere a livello nazionale e internazionale perché la nostra città merita per la sua storia e per le sue tradizioni di guardare al futuro, per la consapevolezza di una persona che da vent'anni fa attività sociali, quindi è innata la volontà di partire sempre dalla comunità, dal basso, dagli ultimi, dalle persone più fragili. Quindi per la volontà di voler accompagnare tutta una città con tutte le sue fragilità in un percorso di crescita futura, guardando a sostenibilità, guardando a crescita, guardando al valore della comunità, guardando alle nuove tecnologie, guardando a tutto quello che il futuro ci farà trovare davanti, con ottimismo, con pragmatismo, con tenacia, con la voglia di far crescere una comunità intera. Grazie allora Etienne Lucarelli, grazie a Roberto Magrelli in regia e a tutti voi per l'attenzione. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie. 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 Pe te. Grazie. Grazie per la visione!